Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, proprio accanto alla scella numero uno. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi attraverso le parole di Padre Marcellino di Asenzaniro, con il libro Il Padre, la missione di salvare le anime, tra le testimonianze, vogliamo raccontarvi la storia di Enzo, ovvero un figlio spirituale molto legato a Padre Pio, Enzo Picciafuoco di Ancona, che era fidanzato con Emilia, Emilia Barone di Campobasso. E come ogni buon figlio spirituale, prima di fare quel passo, che non fa nulla senza il parere del padre, chiese proprio a lui se la scelta della futura sposa fosse quella buona? E Padre Pio rispose, credo di sì. Stando una volta proprio qui a San Giovanni Rotondo, allora pensò, racconta Padre Marcellino nel suo testo, che ritornando a casa avrebbe potuto anche fermarsi nel Molise e fare una visitina alla sua ragazza. Naturalmente ne parlò con Padre Pio per conoscere il suo pensiero e il santo, con molta disinvoltura, potremmo dire proprio così, gli disse se non ti cacciano. Enzo non rimase soddisfatto di questa risposta e quindi non si spiegava il motivo. Prego allora Padre Innocenzo, che conosceva, era suo amico, di domandare nuovamente, fare la stessa domanda a Padre Pio. E Padre Pio rispose, già gli ho detto quello che dovevo dirgli. Ebbene, allora il giovane Enzo prese il treno, pensò bene di andare direttamente a casa, senza deviare per Campobasso, non avendo così avuto l'approvazione di Padre Pio e giunto ad Ancona, trovò così un espresso proprio da parte di Emilia che gli diceva che se avesse avuto intenzione di fare una visita era bene rimandare il tutto a tempo migliore perché era più opportuno e soprattutto perché la casa era una sorta, scriveva Emilia ad Enzo, una sorta di ospedale di campo, tutti malati, tranne lei che doveva fare da infermiera. Enzo allora si confermò nella convinzione che affidarsi a Padre Pio era scegliere per mezzo suo sempre meglio, come lui spesso diceva, e lo vide anche in una circostanza dove la sua famiglia subì un grave lutto. I due ragazzi si sposarono, Enzo ed Emilia, ebbero una famiglia numerosa, quando proprio la signora Emilia aspettava il sesto figlio Enzo come aveva fatto in ogni occasione dei parti precedenti, penso di andare a San Giovanni Rotondo proprio per parlare con Padre Pio che lo aveva sempre tranquillizzato, lo aveva anche rassicurato che tutto sarebbe andato bene. Scese così da Ancona anche questa volta e disse a Padre Pio padre come al solito basta la lavatrice e Padre Pio tra il serio e il preoccupato gli disse ci vogliono i medici Enzo, ci vogliono i medici. Ritornato a casa lui era in forte stato di agitazione, Emilia portata immediatamente in ospedale, fu sottoposta ad un intervento, il bambino era morto, lei correva un serio pericolo. Dopo due giorni un amico di famiglia scese a San Giovanni Rotondo raccomandò Emilia alle preghiere di Padre Pio che poi rispose pregherò, pregherò affinché tutto si risolva bene. L'amico che era ritornato ad Ancona riferì ad entrambi quello che Padre Pio aveva detto. Allora la signora Emilia, ascoltate le parole di Padre Pio, disse fra sé il padre però non sa che ormai tutto si è risolto ma male. Ma il giorno dopo mentre era a letto in compagnia di un'amica che le aveva fatto visita ebbe una violenta emorragia. Più tardi poi proprio Emilia confesserà, mi sentì come se il sangue mi abbandonasse, mi si appannò la vista, persi conoscenza. Allora l'amica chiamò subito il pronto soccorso, la convalescente si salvò e quando Emilia ricorda questi tragici momenti dice spesso se fossi stata sola, racconta Padre Marcellino, sarei morta dissanguata in pochissimo tempo. Anche questa volta Padre Pio aveva visto bene e fino in fondo.